Insalata orientale, sushi misto, paella, tiramisù. Cena responsabile di marketing, tac. Insalata orientale, tac. Sushi misto, tac. Paella, hole! Tiramisù. Vai. 3 minuti e 47 secondi. Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Giovanni, ebbè? L'ho felice per lei. E quello felice sono io. Praticamente ho fatto una cena perfetta in soli 5 minuti. C'ho tutto sotto controllo, no? Che manager. Sacchetto? Eh no, ho detto che ho sotto controllo. Praticamente c'ho il sacchetto mio. Ti piace? Dammi un altro sacchetto. Sono lì. Sono lì, sì. Bra, bra.